Arrivano in anteprima sulle pagine social di Alessandro Rosica in arte investigatore social nuovi interessanti aggiornamenti rispetto al cast del grande fratello VIP7. Sembra infatti che molto presto all'interno della casa sia pronta ad entrare una nuova vippona. Anche se la sua fama, così come successo per altri concorrenti, è decisamente dubbia. Se tutto andrà come da anticipazioni molto presto farà il suo ingresso all'interno della casa tale Dana Saber. Che però su Instagram si fa chiamare Dana Meskin. Si tratta a quanto pare di una modella italo-marocchina diventata celebre. Se così si può dire. Per essersi resa protagonista la scorsa estate di un siparietto decisamente imbarazzante in compagnia di Diane Mello. Ecco l'indiscrezione di Rosica su Instagram. Dana Saber è una nuova concorrente del grande fratello VIP. La modella italo-marocchina è conosciuta solo per la finta paparazzata. Con tanto di lingua. Con Diane e Mello. Grazie agli autori per aver messo dentro l'ennesimo premio Nobel V. Non è dato sapere almeno per il momento quando Dana Meskin, Saber. Che oltre ad essere amica di Mello è anche vicina a Soleil. Farà il suo ingresso all'interno della casa. Bisognerà attendere ancora qualche giorno per scoprire quali sono effettivamente i piani di Alfonso Signorini e della produzione. Lo scorso luglio la nuova papabile Vippona. Soleil Sorge e Diane e Mello erano state, casualmente, pizzicate dai paparazzi di Upsè mentre, durante una sessione di shopping milanese, si scambiavano piccanti e fusioni saffiche. Le scene, ai tempi, erano state aspramente criticate dagli utenti del web. Che nei commenti si erano scatenati con insulti e frecciatine nei confronti delle tre ragazze.